Sara Riboldi, 9 strikeout contro Porto Rico, 10 contro il Brasile, l'Italia ha vinto le ultime due partite del girone. Che sensazione stai provando ora? E' piacevole perché fare così tanti strikeout in un mondiale è una soddisfazione ed è un traguardo che ho raggiunto e che volevo raggiungere, lanciare bene, lo sto facendo e quindi sono felice. Immagino che sia una gioia da condividere con tutto il gruppo comunque. Certo, certo, comunque loro mi hanno aiutato in difesa e anche in attacco ovviamente, quindi sono contenta sia di me sia della squadra. Possiamo dire ora che l'Italia si è svegliata? Finalmente sì, siamo tutte più cariche e dovevamo farlo prima ma purtroppo è andata così ma andiamo avanti, non molliamo mai. L'Italia va avanti e non molla mai perché adesso continuando a vincere c'è addirittura ancora la possibilità di arrivare al quinto posto. E noi punteremo a quello. C'è qualcuno da ringraziare per il livello che hai raggiunto in queste partite? Certo, Greta Cecchetti che è il mio pitching coach e la lanciatrice del bollate e grazie Greta. È un'emozione lanciare con lei e mi ha fatto migliorare, sono contentissima. Grazie.